Ciao ragazzi e benvenuti in questo tutorial di Construct 2. Vi consiglio di fare molta attenzione perché è un tutorial difficile. Qui impareremo a creare un nuovo progetto. Cliccate su file in alto a sinistra e fate New Project. Come vedete ci sono molte scelte. Noi sceglieremo il primo. Ora avrete un progetto bianco. Bene vi saluto. Ci vediamo al prossimo tutorial, sempre che Tontube non mi licenzi. Ciao.